Ciao amici, state per assistere ad una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Io vorrei invitarvi prima che inizia il video rapidissimamente a fare alcune operazioni che a voi non costano nulla ma che possano essere molto importanti per la diffusione di questo video e per il bene delle anime. Se vi piacerà il video un like, eventualmente se non siete ancora iscritti in iscrizione al canale con l'abilitazione anche della campanella con le notifiche e se credete opportuno anche la condivisione del video o eventualmente anche un commento. È vero che i commenti sono soggetti a moderazione ma i moderatori insomma hanno buone capacità di far discernimento sui commenti. Detto questo, buona visione a tutti. Bellissime e avvincenti, ecco, pagine da scolare insieme. In particolare il famoso episodio che ha reso Maria di Magdara famosa in tutto il mondo. Ecco, perché Gesù a commento di questo episodio uno dei rarissimi presenti in tutti e quattro i Vangeli disse a fronte delle lamentele, delle lagnanze di Giuda e Scariota dice sì, tu ti danni di questa cosa, io invece ti dico che in qualunque posto del mondo se non c'era il Vangelo io voglio che si racconti quello che lei ha fatto. E l'episodio che stiamo per leggere è uno dei rarissimi casi, sono davvero rari, in cui un brano, appunto un episodio, è narrato da tutti e quattro i Vangeli. Cioè i tre sinottici più anche il Vangelo di San Giovanni. È una cosa molto rara perché il Vangelo di San Giovanni ordinariamente raccoglie dati e informazioni non presenti nei tre Vangeli sinottici. Ma perché è stato proprio scritto con lo scopo di completare, quanto già detto dai sinottici, con una particolare accentuazione verso il mistero della divinità di Cristo. Però questo episodio è presente in tutti i Vangeli. È la famosa unzione di Betania, pre-passione, quindi stiamo arrivando sia verso la fine della vita italiana di Gesù, sia anche verso la fine di questo testo. C'è ancora un pochino da lavorare, per cui credo che almeno per tutto il mese di maggio, il mese di giugno, ne avremo ancora con questo ciclo di catechesi. Io passo subito alla lettura perché il capitolo è molto lungo e soprattutto c'è un po' di, come dire, un po' di premessa prima che si arrivi all'episodio clou. Quindi cerco di leggere, come sempre vedrò se, come e quando fare qualche interruzione per il commento di quanto stiamo ascoltando. Allora, la cena di Betania nel sabato avanti l'entrata in Gerusalemme. La cena è stata preparata nella sala tutta bianca dove Gesù parlò alle discepole. Ed è tutto uno splendore di bianco e di argento nel quale mettono una sfumatura meno nivea e fredda dei fasci di rami di melo o di pero o altra pianta da frutto, candidi come la neve, ma con un così lieve ricordo di rosa che fa pensare a neve sfiorata da un bacio di lontana aurora. Si ergono da vasi panciuti o da esili anfore d'argento sulle menze e sugli scrigni e le gradenze che sono lungo le pareti della sala. I fiori spargono per la sala il caratteristico odore dei fiori di pianta da frutto di fresco, di amarognolo, di primavera, pure. Lazzaro entra nella sala al fianco di Gesù, dietro due a due, a gruppi più folti, gli apostoli. Ultime le due sorelle di Lazzaro con Massimino. Non vedo le discepole, neppure Maria vedo. Forse hanno preferito rimanere nella casa di Simone intorno alla madre afflitta. Il giorno volge al crepuscolo, ma un superstite ricordo di sole colpisce ancora la chioma frusciante di alcune palme. Rienite in gruppo a pochi metri dalla sala e la vetta di un lauro gigantesco in cui rissano i passeri prima di porsi a riposo. Oltre le palme e il lauro, oltre le siepi di rose, i gelsomini e l'aiuola di mughetti, di altri fiori e pianticine odorifere, la macchia candida spruzzata del verde tenero delle prime foglie di un gruppo di meli o di peri tardivi nel frutteto. Sembra una nuvola rimasta impigliata fra i rami. Qui abbiamo avuto un saggio delle capacità descrittive, veramente uniche, io non sarei assolutamente capace di fare una roba del genere, di Maria Valtorta, che era veramente straordinaria nel descrivere ambienti, luoghi, situazioni, paesaggi, natura, vesti, fisionomie. Veramente, questa era una dotazione naturale, sicuramente di un talento di questa santa donna. Gesù nel passare vicino ad un'anfora piena di rami, osserva. Avevano già i primi frutticini, guarda, sulla cima dei fiori, mentre più in basso è già caduto il fiore e gonfia l'ovario. E' Maria che li ha voluti cogliere, ne ha portato fasci anche a tua madre. Si è alzata all'alba, io credo, per paura che un giorno di più di sole consumasse queste fragili corolle. Io ho saputo da poco di questa strage, ma non ne ho avuto lo sdegno che ne ebbero i servi agricoltori. Ho pensato anzi che era giusto rioffrirti tutte le bellezze del creato a te, re di tutte le cose. Gesù si siede sorridendo al suo posto e guarda Maria che insieme alla sorella si appresta a servire come fosse un'ancella, porgendo le coppe della purificazione e gli asciugatoi, e poi versando il vino nei calici e posando i vassoi di vivande sulla tavola man mano che i servi li portano dalle cucine o riporgono dopo averli scalcati sulle credenze. Naturalmente, se le sorelle servono con cortesia tutti i commensali, la loro premura è specialmente concentrata sui due commensali che sono loro direttissimi, Gesù e Nazaro. Ad un certo punto Pietro, che mangia di gusto, osserva Guarda, mi accorgo ora, tutti i piatti come si usa in Galilea, mi sembra... Ma sì, mi sembra di essere un pranzo di nozze, però qui non manca il vino, come mancò a Cana. Maria sorride, mescendo all'apostolo un nuovo calice di vino ambrato, limpidissimo, ma non parla. È ancora Nazaro che spiega. Questo fu infatti il pensiero delle sorelle, e specie di Maria, dare una cena in cui il maestro avesse l'impressione di essere nella sua gallea, certo migliore, molto migliore, sebbene è sapore imperfetta, di ciò che non siano questi luoghi. Ma per fargli pensare questo ci sarebbe voluta Maria a questa tavola. Cana c'era, per lei avvenne il miracolo, osserva Giacomo di Alfeo. Doveva essere un gran vino quello. Vino è simbolo di allegria, e dovrebbe esserlo anche di fecondità, essendo il vino succo della feconda vite. Ma non mi sembra che abbia fecondato molto. Susanna non ha un figlio, dice l'iscariota. Oh, se era un vino, ci ha fecondati nello spirito, dice Giovanni, sognante un poco, come è sempre quando contempla nel suo interno i miracoli operati da Dio. E termina Per una vergine è stato fatto, e in flusso di purezza scese in chi lo gustò. Ma credi Susanna vergine? Chiede ridendo l'iscariota. Non ho detto questo. Vergine è la madre del Signore. Verginità si emana da tutto ciò che per lei si è compiuto. Sempre io penso come sono verginizzanti tutte le cose che per Maria si fanno. e sogna di nuovo sorridendo a chissà che visione. Ecco, qui bisogna un attimo fermarsi. Aspetta, ci leggiamo il commento di Pietro. Beato quel ragazzo! Io credo che non ricorda più neppure il mondo. Ora, osservatelo, dice Pietro, indicando a Giovanni che, sdraiato sul suo rettuccio, smuove sopra pensiero dei pezzetti di pane dimenticandosi di mangiare. Mi fermo anche perché qui stiamo in dioincidenza. Perché proprio oggi ho potuto dedicare un pochino di tempo alla correzione di un'altra nuova pubblicazione che sto facendo. per il mese di maggio che si chiamerà Le Virtù di Maria è un'operetta non è tanto un'opera da leggere questo sarà un testo buono per la proprio lettura spirituale in senso stretto o meditazione perché è proprio pensato appunto non come un testo diciamo per la formazione della fede o nella dottrina o nella morale è proprio un testo pensato per far risaltare la bellezza la grandezza e il fascino unico di Maria Santissima specialmente nelle sue virtù e siccome oggi ero arrivato a correggere la purezza di Maria queste espressioni di San Giovanni si trovano proprio nel testo sempre io penso come sono verginizzanti tutte le cose che per Maria si fanno cioè la concessione di Maria come vergine è verginizzante cioè chi entra in contatto con lei in contatto profondo si verginizza in qualche modo anche se era un impuro anche se era un lussurioso ha è veramente qualche cosa di di portentoso nel senso perché se chi entra in contatto intimo con Maria se se questo fa sicuramente sarà liberato dai fumi della lussuria e se come San Giovanni già è un vergine ecco gli effetti insomma li abbiamo visti e li ha descritti e li ha descritti di Pietro cioè San Giovanni non era di certo un beone insomma un utriacone però ricorda la bontà del vino delle nozze di Cana che effettivamente risulta anche dai Vangeli cioè il commento tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono tu invece hai servato per la fine del banchetto il vino buono e lui attribuisce questo non solo al miracolo di Gesù ma anche al fatto che è stato suscitato dall'intervento della Vergine questo è perché le opere fatte dal cielo anche queste sapete che ovviamente le nozze di Cana hanno un significato che non è semplicemente quello del vino materiale no adesso però non è questa la sede per fare la catechesi sul faccio delle nozze di Cana che è un brano fondamentale e assolutamente focale nell'ambito della narrazione evangelica però cosa fatta dall'altissimo per mezzo di Maria è cosa molto molto particolare e molto divina diciamo così prosegue la lettura anche Gesù si curvò un poco per guardare Giovanni che è a un angolo del lato della tavola messa ad U e perciò un poco dietro alle spalle del Signore che è al centro del lato centrale avendo il suo cugino Giacomo a sinistra e Lazzaro a destra e dopo Lazzaro è lo zelote e Massimino come dopo Giacomo è l'altro Giacomo e Pietro Giovanni invece è fra Andrea e Bartolomeo poi è Tommaso avendo di fronte Giura Filippo e Matteo e il Taddeo che è proprio all'angolo dove la tavola lunga centrale incomincia Maria di Lazzaro esce dalla sala mentre Marta mette sulla tavola dei vassoi colmi di fiori di fichi novelli di verdi steri di finocchio e mandorle fresche sgusciate fragueloni o lamponi che so io che sembrano ancora più rossi in mezzo agli smeraldi pallidi dei finocchi e delle fiore e al latte o delle mandorle dei piccoli poponi o altro frutto del genere mi sembrano che i poponi verdi della bassa Italia e aranci dorati già di questi frutti non ne ho visti nessun luogo di maturi dice sgranando gli occhi Pietro accennando le fragole e i poponi sono venuti in parte dalle sponde oltre Gaza dove ho un orto di questi prodotti e parte dalle terrazze solari che ho sopra la casa i vivai delle pianticine più delicate che occorre proteggere dal gelo me ne insegnò l'uso un amico romano non mi insegnava questo di buono Lazzaro si incubisce Marta sospira ma Lazzaro torna subito il perfetto ospite che non dà tristezza ai suoi invitati molto si usa nelle viglie di Baia e di Siracusa e lungo l'arco di Siba di coltivare queste delizie con questo metodo per averle precocemente mangiate gli ultimi frutti negli aranci libici i primi nei poponi d'Egitto cresciuti nei solari e in queste frutta latine e le mandorle bianche della nostra patria le fave tenere i digestivi stelli che sanno danaci Marta ha pensato al bambino a tutti ho pensato Maria si è commossa ricordando l'Egitto ne avevamo qualche pianta nel povero orto nei grandi castelli era una festa immergere i poponi nel pozzo del vicino che era rotondo e freddo e mangiarne la sera ricordo e aveva una capretta golosa qui è Gesù che sta parlando e racconta il suo tempo in cui stava in Egitto quando era bambino ovviamente e aveva una capretta golosa che bisognava guardare perché era ghiotta delle piante e delle frutta tenerelle Gesù che parlava a capo un pochino alza la testa e guarda le palme tormenti nel vento della sera che cala quando vedo quelle palme sempre quando vedo le palme rivedo l'Egitto la sua terra gialla e sabbiosa che il vento smuoveva così facilmente e lontano tremolavano nell'area dove fatta le piramidi e i fusti alti dei palmizi e la casa dove ma è inutile dire a ogni tempo il suo affanno e con il suo affanno la sua gioia Lazzaro mi daresti qualcuno di questi frutti li vorrei portare a Maria e Mattia non credo che Giovanna ne abbia non ne ha lo diceva ieri proponendosi di metterne a beter facendo costruire i solari ma non te li do ora ho colto quanti navi e per qualche giorno mancano dei frutti maturi te li manderò oppure mandali a prendere entro giovedì ne prepareremo un grazioso canesto per quei fanciulli non è vero Marta? si fratello mio e vi metteremo i piccoli gigli delle convallarie che a Giovanna piacciono tanto rientra Maria Maddalena hanno le mani un'anfora dall'esile collo terminati in un beccuccio aggraziato come gola di uccello l'alabastro è di un prezioso colore giallo rosato come certe carni di bionde gli apostoli la guardano forse credendo che porti qualche ghiottoneria rara ma Maria non va al centro fra l'u della tavola dove è la sorella passa dietro i sedili lettucci va a collocarsi fra quello di Gesù e Lazzaro e dove sono i due Giacomi stura il vaso dall'abastro e pone la mano sotto il beccuccio raccogliendo alcune gocce di un liquido filante che geme lentamente dall'anfora aperta un acuto odore di tuberose e altre essenze un profumo intenso e buonissimo si sparge per la sala ma Maria non è contenta di quel poco che viene si china e infrage con un colpo sicuro il collo dell'anfora contro lo spigolo dell'ettuccio di Gesù il collo esile cade a terra spargendo sui marmi del pavimento gocce profumate ora l'anfora ha un'ampia bocca e l'esuberanza dell'unguento ne trabocca in righe pesanti Maria si pone alle spalle di Gesù e sparge l'olio spesso sul capo del suo Gesù ne cosparge tutte le ciocche le estende e poi le riavvia col pettine che si leva dai capelli le ricompone in ordine sul capo adorato la testa biondo-rossa di Gesù splende come un oro cupo lucidissimo dopo questa unzione la luce del lampadario che i servi hanno acceso si riflette sul capo biondo di Cristo come un casco di bronzo ramato bellissimo il profumo è inibiliante penetra nelle nari sale sul capo quasi astuzzicante come una polvere starnutatoria tanto acuto sparso così senza misura Lazzaro col capo girato all'indietro sorride vedendo con quale cura Maria unge e ravviva le ciocche di Gesù perché il suo capo appaia ordinato dopo l'odorosa frizione mentre non si cura che le sue trecce non più sorrette dal largo pettine che aiuta le forcine nel loro compito stanno abbassandosi sempre più sul collo prossime ad allentarsi del tutto giù per le spalle anche Marta guarda e sorride gli altri parlano fra loro a bassa voce e con diverse espressioni sul viso ma Maria non è sazia ancora deve ancora molto unguento nel vaso spezzato e i capelli di Gesù per quanto siano folti ne sono già saturi allora Maria ripete il gesto di amore di una sera lontana la ricorderemo perché l'abbiamo letta su queste pagine si inginocchia ai piedi del lettuccio scioglie le fibbie dei sandali di Gesù e scalza i piedi di lui e tuffando le lunghe dita della bellissima mano nel vaso ne trae quanto più unguento può e lo stende lo sparge sui piedi nudi dito per dito poi la pianta e il calcagno e su al malleolo che scopre gettando indietro la veste di lino per ultimo sul dorso dei piedi induggia la sui metatarsi dove entreranno i chiodi tremendi insiste finché non trova più balza o nel cavo del vasello e allora lo infrange al suolo e libera le mani si spunta le grosse forcine si scioglie svelta le trecce pesanti e asporta con quella matassa d'oro viva morbida fluente quanto supera dell'unzione dai piedi stillanti balsamo di Gesù Giuda fin qui aveva tacciuto osservando con sguardo impuro di lussuria e di invidia la bellissima donna e il maestro che ella ungeva sul capo e sui piedi alza la voce unica voce di aperto rimprovero gli altri non tutti ma alcuni avevano avuto qualche mormorio o gesto di disapprovazione stupita ma anche pacata ma Giuda che si è alzato anche in piedi per vedere meglio l'unzione sparsa sui piedi di Cristo dice con malgarbo quale inutile pagano sciupio perché farlo e poi non si vuole che i capi del sinedrio mormorino di peccato codesti sono atti di cortigiana la sciva e non si addicono alla nuova vita che tu conduci o donna troppo ricordano il tuo passato l'insulto è tale che tutti restano sbalorditi è tale che tutti si agitano chi sedendosi sui lettucci chi balzando in piedi tutti guardando Giuda come fosse uno impazzito di improvviso Marta avvampa Lazzaro si alza di scatto picchiando un pugno sul tavolo e dice in casa mia ma poi guarda Gesù che si frena sì mi guardate tutti 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 avete mormorato in cuor vostro ma ora perché io vi sono fatto vostra eco e ho detto apertamente ciò che pensavate ecco che siete pronti a darmi torto e ripeto ciò che ho detto non voglio già dire che Maria sia l'amante del maestro ma dico che certi atti non si convengono né a lui né a lei è un'azione imprudente e ingiusta anche sì perché questo spreco se la voleva distruggere i ricordi del suo passato poteva dare a me quel vaso e quel unguento almeno un libro di merdo puro era e di gran pregio lo aveva venduto per 300 denari al minimo perché un nardo di tal pregio va su quel prezzo e poteva vendere il vaso che era bello e prezioso avre i poveri che ci assediano questi denari non bastano mai e domani a Gerusalemme senza numero saranno quelli che chiedono un opolo qui mi fermo perché bisogna fare qualche considerazione questa non era catechesi sul mistero di Giuda chissà forse la ritroveremo anche questo episodio ma molto 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 più avanti perché lì non sono queste piccole 300 pagine ce ne stanno 800 quindi avremo parecchio da lavorare però questo esplorato Giuda ricordiamo sempre che queste conversazioni hanno un taglio catechetico io devo dare loro un taglio catechetico mi offrono una possibilità per stigmatizzare alcune modalità comportamentali purtroppo molto diffuse e anche ordinariamente poco considerate o affatto considerate da chi le pone in essere cosa sta facendo Giuda cosa sta facendo Giuda oltre che sputare veleno sta giudicando sta insinuando sta facendosi a suo dire interpreti di quello che tutti penserebbero ma attenzione la chiave di lettura sta in quello che Maria Valtorta nota sguardo impuro di lussuria e di invidia quindi tutto quanto quell'ex pluat ordito a regola d'arte e presentato no sotto le parvenze di questo è uno scandalo questo qui no che è questa roba la motivazione reale qual è è che lui avrebbe venuto stare al posto di nostro Signore Gesù Cristo a ricevere quelle cose per poi peraltro dare loro un seguito che non ci vuole la scienza infusa per capire quello che sarebbe stato nei suoi sono capite ma siccome vedete il prestare guardate che allora questo per dire chi sputa veleno chi passa la vita a parlare a sparlare a giudicare a insinuare a impicciarsi degli affari del prossimo qualificandoli quello è malato quello lì e molte delle vomitate perdonatemi il termine e delle infamate che sputa fuori da quel cuore cattivo sono lo specchio di quello che lui o lei è e da questa gente figlioli miei cari dobbiamo stare alla larga ma alla larga ma alla larga come ti permetti giuda tu di parlare se il maestro domine dio l'ha lasciata fare se il maestro del domine dio l'ha lasciata fare anche se questa cosa a te sembra strana e forse potrebbe sembrare strana a qualcuno ha lasciato farlo lui taci silenzio voi sapete quanta gente io quando parlo di queste cose purtroppo in parte so di quello che parlo allora sapete quanta gente passa il tempo anche con i poveri preti o con i poveri parroci a farti le pulci ad osservarti poi nei piccoli centri dove mi trovo io non ci faccio a me non importa assolutamente nulla quindi faccio sempre finta di niente faccio pensare anche a tutti che non mi accorgo di niente sono molto bravo credo adesso fatto peccato mi devo confessare di superbia di superbia di superbia e tutti pensano che io ignori quello che accade capito quindi pensano che io non mi accorga di certe cose ma me ne accorgo benissimo ora ci sono delle situazioni oggettive cioè allora ricordiamoci sempre una cosa il giudizio oggettivo sui comportamenti oggettivi delle persone non soltanto che non è peccato ma a volte è doveroso mi spiego se io salgo sul pulpito e dico una castroneria che ne so oggi è la festa di Sant'Atanasio e dico ah vai Gesù Cristo mica penserete che è il figlio di Dio cioè è un grande uomo un grande santo è un profeta ma mica penserete che è Dio come il padre ecco queste erano le cretinate che diceva Ario e contro cui Sant'Atanasio ci ha speso la vita per allora se io vorreste una cosa di questo genere non è che uno guardando quello che faccio insinua o malinterpreta o maligna ho detto un'eresia avrei detto un'eresia grossa quanto una casa e non soltanto che bisogna prenderne atto ma bisogna anche considerare se sia il caso di andarla a riferire anche se un'eresia di questo genere detto fra me e voi oggi non incontrerebbe grandi sanzioni canoniche perdonatemi l'ironia un pochino amara no? sono altri peccati che incontrerebbero peccati o presunti tali perché altri non sono peccati ma incontrerebbero sanzioni canoniche comunque perdonatemi la verbo un po' polemica su questo su questo argomento quindi i giudizi oggettivi oggettivi quindi che cadono su cose oggettivamente successe si possono e si devono fare ma quelli soggettivi no? o anche la qualificazione di un fatto ambivalente no? scusate supponiamo che una persona un forestiero veda una donna che entra dentro la casa di un sacerdote se quella pensa questa è l'amante ha fatto peccato mortale come in questo caso Giuda perché quella potrebbe essere uno una persona che vuole da confessarsi due una persona che vuole fare un colloquio tre una persona che vuole da farsi benedire quattro una mia dipendente la cosiddetta perpetua chi ha detto quella la mia cioè se uno deve entrarla ad un oreo tranquillo alle 10 della mattina e interpreta in questo modo che cosa sta facendo sta facendo Giuda sta facendo purtroppo sta cosa qui amici cioè noi dobbiamo imparare per evitare di fare questa cosa perché poi i Giuda della situazione perché questi sono peraltro i Giuda della situazione perché quando uno comincia cioè questo che cosa sta insinuando poi la caregna mette le mani avanti ah non voglio dire che Maria sia l'amante del maestro per carità ma dico che certi atti non convengono né a lui né a lei sì e tu chi sei per dire una cosa di questo genere chi saresti tu per permetterti di dare questa qualificazione con quale autorità con quale competenza poi c'è l'altro accampamento guardate figliari miei cari che poi tutte le tante se sorpresine io le dico queste cose qui ma so bene che chi non so se tra gli ascoltatori indiretti o indifferiti spero di no ci sia qualcuno che sta in queste ingabbiato in queste in queste pastoglie ma se ci fosse state tranquilli che non mai si farebbe l'esame di coscienza e penserebbe ma forse io sono così mai assicuro proprio al 100% lo dico perché magari qualcuno potrebbe essere aiutato o a sgamare decodificare personaggi di questo genere da cui dobbiamo fare attenzione perché ok oppure per evitare di cadere in queste dinamiche quindi l'ultimo step è non soltanto io mi sono impicciato dei fatti non miei ho qualificato ho fatto insinuazioni ho anche peraltro a casa se lo dice in casa mia quello perché c'era maestro davanti se no si alzava e lo confiava come una zampogna ma come ti permetti di venire a fare queste cose a casa mia tra l'altro vabbè comunque l'ultimo step è io non sono fatto bene per questo motivo quindi per questo ha dato scandalo ha dato scandalo capite ha dato scandalo quello sarebbe in un contesto del genere dove tutti sanno chi è Gesù chi è stata e chi è Maria di Magdala scandalo di cosa dove ci mettiamo anche l'ultima l'ultima chicca ah di poveri e adesso vedremo che quando Giuda dice questo addirittura addirittura qualcuno inizia a dire beh però tutti i torti mica ce l'ha eh perché i soggetti di questo genere intortano le cose e poi te le regirano e te le presentano in modo tale ecco perché questa qui è gente che fa danni e ve lo dico ti ripeto perché poi trova sempre il modo conclusivo per dire per presentarla non soltanto con una cosa con una cosa dolorosa capite con una cosa che bisogna assolutamente farla perché questa questa è matta questa qui secondo Giuda è matta ed è ingiusta ha commesso un peccato mortale perché ha privato i poveri di un sacco di soldi noi ci andiamo sempre tra i piedi non sappiamo come accontentarli e questa diversi cose risprega per una cosa inutile voleva distruggere il suo passato beh non è meglio a me che ci penso io che queste cose le due poveri e così andiamo incontro i poveri io spero di aver trasmesso qualche cosa insomma con questa rassegna triste rassegna ecco di 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 brutte cose brutte brutti comportamenti brutti atteggiamenti adesso andiamo a vedere i commenti degli astanti che questo ci sta vedete così fa questo fa capire bene come la tecnica è perfettamente riuscita in alcuni non in tutti eh ah questo è vero sentono gli altri potete usarlo un poco per il maestro e l'altro capito quindi anche i migliori da questa sceneggiata si sono fatti in parte abbindolare cioè non dico che gli diano ragione in tutto perché si vede che però dice beh però su questo si eh però su questo c'ha ragione eh almeno un po' si poteva fare diversamente e con quello almeno un po' abbiamo già completato l'infamata ora Mario Di Magdala oh vedete come come si deve reagire in anzio a questo di questo per questo che io reagisco come vi ho detto proprio io ma proprio guarda ma proprio non te proprio c'è zero assoluto come se non esistessi anche se so tutto Mario Di Magdala l'ha sentito una persona che ha il cervello che gli funziona capisce sgama intuisce come che fosse e che cosa bisogna fare bisogna forse lasciarsi intimidire ma io continuo a fare quelle cose come prima anzi più di prima continuo a detergere tu pensi male mi appiccichi le infamate ok magari nel caso dei predi si vanno pure a dire al vescovo le infamate o qualcun altro si io ho la coscienza pulita quindi perché un sacerdote così come il nostro signore Maria Di Magdala di che cosa si deve preoccupare cosa dice San Paolo la testimonianza della buona coscienza se un sacerdote è un sacerdote ci si mette davanti a Dio si spoglia davanti a Dio o si lascia spogliare dalla sua luce quindi se la mia coscienza non mi rimprovera io continuo e non mi importa niente dell'infamate che tu mi sbatti addosso perché la più grossa reazione è l'indifferenza irridente proprio in questo caso non te calcolo non te calcolo proprio ma il ripagno è come se fosse sorda vedete così si reagisce reagite così non mi mette a fare a dire ah sono venuto a sapere ah qua mi hai arrivato oppure mi sembra e comincia a litigare e poi si regeranno tutto e anche l'evidenza tutto tutto continua a detergere i piedi di Cristo con i suoi capelli sciolti che ora giù nel basso sono pesanti di un vento e sicuro e più scuri che sul lato del capo i piedi di Gesù sono lisci e morbidi nel loro colore di avorio vecchio come se fossero coperti di un epidermi di novella e Maria calza di nuovo i sandali a Cristo e bacia ogni piede prima e dopo di averlo calzato sorda ad ogni cosa che non sia sorda per Gesù quindi quello che ha detto questi sono gesti da cortigiana lasciva veramente Lazzaro penso che abbia esercitato un dominio di sé eroico d'accordo e questa che fa bravissima sì 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 di pure sì sì io sono una prostituta e lui adesso sarò tutto quanto eccitato per quello che gli ho fatto sì sì continua a pensare nuova eccità ancora capite attenzione che sto facendo ironia no? per capire la reazione dinanzi a queste cose qui non mi farebbe né caldo né freddo perché Maria di Magga non sta facendo assolutamente nulla di male e Gesù Cristo non si sta facendo fare nulla di male altrimenti il maestro l'avrebbe impoverata è chiaro che quello magari potrebbe apparire come un gesto atipico ma perché il nostro signore Gesù Cristo ha detto non giudicate punto interrogativo tanto questa cosa non entra dentro la testa della gente non giudicate non giudicate cosa? le intenzioni nascoste profonde perché Maria di Magga la sta facendo quella cosa? e perché il nostro signore se la sta prendendo? adesso lo spiegherà in parte Gesù allora adesso Gesù spiega sorda ogni cosa che non si faccia amore per Gesù il quale la difende posandole una mano sulla testa curva nell'ultimo bacio e dicendo lasciatela fare perché le date pena e molestia voi non sapete ciò che l'ha fatto voi non sapete ciò che l'ha fatto e sapeste quanta gente nei paesi succoli no ah si si lo so io ah lo so io quello che fa ah lo so io lo so io lo so lo so io ah lo so io tant'io so tutto lo so io lo so io qui ripeto piccoli centri a go go ci si fa anche nei grandi centri perché adesso sono diventate anzi io vengo da una città che è una provincia voi sapete che c'è un dispregiativo purtroppo assai sacrosanto che si chiama provinciale ecco questi atteggiamenti sono anche eh abbastanza frequenti nel modo di pensare provinciale d'accordo specie nei grandi paesoni che sono le province in cui sono nato cresciuto e vissuto che sono in realtà paesoni non sono proprio città vabbè voi non sapete ciò che l'ha fatto perché tra l'altro Gesù sta dicendo questa è stata ispirata perché unge del capo era l'unzione che si dava ai re e ungere i piedi oltre che rievocare il gesto antico era anche come dire trattare dare un grande sollievo no a un organo che sarebbe stato non massacrato ma qualcuno di voi ha voglia di fare una prova di che cosa significa farsi trapassare a colpi di martellate tra il terzo e il quarto a metà tasso il piede da un chiodaccio lungo 30 centimetri cioè a forma quadrangolare ma io tra secolo io ogni tanto me lo chiedo e glielo chiedo al nostro signore ma come hai fatto provate a a farvi un taglio sotto la pianta del piede un taglietto vedete le stelle che uno vede che sanno questi qua che sapeva giuda che 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 di lì a a cinque giorni sarebbe successa una sei giorni sarebbe successa una tragedia del genere ma lui ha compiuto un'azione doverosa e buona verso di me doverosa e buona quindi quello che a te ti sembra uno scandalo è un'azione doverosa capito doverosa quindi pensate ai giudizi degli uomini doverosa i poveri saranno sempre fra voi io sto per andarmene e sì li avrete sempre ma a me presto non mi avrete più ai poveri potrete dare sempre un obolo a me fra poco al figlio dell'uomo fra gli uomini non sarà possibile più dare onore a alcuno per volere di uomini e perché loro è venuta sentite che dice l'amore le ha luce e la sente che io sto per morire e ha voluto anticipare al mio corpo le unzioni per la sepoltura altra interpretazione quindi è stata ispirata dall'alto nel fare questa cosa in verità vi dico che laddove sarà predicata la buona novella sarà fatta a ricordanza di questo suo atto di amore profetico in tutto il mondo e in tutti i secoli io vorrei tu pensa un po' pensiamo un po' se noi ci dovremmo andare a infamare qualcuno vai di brutto eh dopo di che ti trovi al giudizio particolare hai infamato per questa cosa ma ti fai rendendo conto che significa una roba del genere cioè tu hai tu hai infamato un'azione che io ti dico sarà annunciata dovunque in tutto il mondo e ricordata in tutto il mondo in tutti i secoli e tu non vedo è un grande scandalo ma non sarebbe meglio io dico no stare zitti almeno tetto nel pensiero almeno dato che lui si vantava anche che perché questi soggetti dicono no 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 ma io ho detto quello che tutti pensano solo che non c'hanno il coraggio di mettere quindi io sono anche il coraggioso quindi quello che c'ha il coraggio di dirlo e di prendere posizione va bene ora ti devo trovarti in una situazione analoga però volesse Dio fare di ogni creatura un'altra Maria che non calcola valore che non nutre attaccamento che non seba un ricordo anche minimo del passato ma distrugge e calpesta ogni cosa della carne e del mondo e si infrange e si sparge come fece del nardo e dell'alabastro sul suo signore per amore di lui non piangere non piangere Maria questa stava a piangere perché gli sono state delle infamate perché la gente poi si pensa che tu puoi andare a infamare e che l'infamato sia a Roma i romanacci i borgatari dicono dell'ineleum uno che è che gli fa non è che gli fa gli infamati fanno male fanno che poi l'infamato sopporta per amore del signore fa finta di non sentire fa finta di non vedere va avanti nonostante quelle cose va bene ma gli infamati fanno male e quella stava piangendo io so per certo non sto parlando ovviamente di me di sacerdoti che hanno rischiato di lasciare il ministero a causa delle infamate continue da parte dei parrocchiani infamate continue e che sono stati ritrovati dai collaboratori che avevano le chiavi dell'ufficio i pomeriggi con la testa sul tavolo dell'ufficio e sopra le braccia piangendo come bambini che dicevano ma io che gli ho fatto questa gente qui non si trattava di preti come dire scandalosi si trattava di a volte di poveretti che più di tanto non riescono a fare tutto questo grande male non è che lo facessero e tu grazie a tutto quello che fai fai ridurre un prete così che quello rischia di passare la depressione e lascia un ministero ma pensa questa gente di farla franca poi quando si trova dinanzi io non ci vado tenero con la mia categoria né con me stesso né con i miei confratelli per carità di Dio però dai su un piangere di Maria io te le ripeto in quest'ora le parole te le ripeto in quest'ora le parole di Simone farisea e a Marta tua sorella tutto ti è perdonato perché tu hai saputo amare totalmente è l'amore di carità è l'amore rivolto verso il Signore Gesù tu hai scelto la parte migliore non ti verrà tolta va in pace mia dolce pecorella ritrovata va in pace i pascoli dell'amore saranno il tuo cibo in eterno alzati bacia anche le mie mani che ti hanno assolta e benedetta quanti hanno assolto quanti hanno assolto benedetto guarito beneficato queste mie mani eppure io vi dico che il popolo che io ho beneficato sta prestando a queste mani la tortura si fa un silenzio pesante nell'aria pesante dell'acuto profumo queste cose generalmente sulla terra non accadono ma questo silenzio pesante si fa al giudizio universale a carico degli infamatori e a consolazione degli infamati Maria ha i capelli sciolti sulle spalle a farle manto e sul volto a farle velo bacia la destra che Gesù le porge e non sa staccare da essa le labbra Marta commossa le viene vicino le raccoglie i capelli risciolti l'intreccia carezzandole poi estendendole il pianto sulle gote nel tentativo di asciugarlo nessuno ha più voglia di mangiare le parole di Cristo fanno pensosi il primo a alzarsi è Giuda ad Alfeo chiedo licenza di ritirarsi già con il suo fratello lo limita e così fanno Andrea e Giovanni restano gli altri ma già in piedi intenti a purificarsi le mani ai bacini d'argento che i servi porgono loro Maria e Marta lo fanno con il maestro e con Lazzaro entra un servo a parlare con Massimino maestro dice questo dopo averlo ascoltato ci sono delle persone che vorrebbero vederti vengono da lontano dicono che facciamo vengono di lontano dicono che facciamo Gesù chiama Filippo Giacomo di Zebedeo e Tommaso e ordina andate evangelizzate guarite fate il mio nome annunciate che domani salirò al tempio sarà bene dirlo questo signore chiede Simone Zerote è inutile dacerlo poiché già è detto dai nemici più che dagli amici nella città santa andate e così gli avura mandato questo orto la cena tra le altre cose quindi mi raccomando figlioli miei cari imitiamo la madre di Magdala nell'amare il signore e nella testimonianza della buona coscienza quando la nostra coscienza non ci rimprovera quando non c'è niente di cui dobbiamo vergognarci e dobbiamo imparare a fare questo discernimento quando anche arrivassero mormorazioni calunni e critiche si va avanti tranquilli io non voglio che qualcuno riveste panni di Giuda se ci fosse meglio che ci pensa adesso prima che sia troppo tardi l'esame di coscienza bisogna impararlo a fare non si non si possono fare gli esami di coscienza sulle cretinate devo mettere le cose serie non si può filtrare il moscerino ingoiare il cammello non si può guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello quando non si si accorge della trave che è nel proprio mi raccomando amici miei facciamo tesoro di queste cose perché sullo sfondo di Mare di Maldara oggi è apparsa la tetra figura di Giuda che è oggetto di un ciclo di catechesi ad hoc perché queste cose io ve lo dico da sacerdote sono molto più diffuse di quanto si pensi e producono sofferenze disagi male distruzioni di relazioni infamie danni veleni tante brutte cose io vi benedica la santa vergine sempre vi proteggami ci siano modati Gesù e Maria alla prossima puntata